Indovina il film dall'emoji Se però vuoi partecipare a questa challenge devi semplicemente cliccare sul tasto di iscriviti O non possiamo partire quindi fallo 3, 2, 1 dai fallo che non ti costa nulla Questo ragazzi è troppo semplice abbiamo anche il cappello del personaggio Troviamo l'emoji, un fungo e un tubo Secondo voi che film è? Stiamo parlando di Super Mario Bros e infatti è Super Mario Questa ragazzi non lo so troviamo della neve Un pupazzo di neve e una principessa Ragazzi una principessa nella neve Non ho idea cenerentola Non lo so raga non lo so non lo so Rosen porca miseria Un riccio, un anello e una scarpa Raga adesso ditemi come faccio ad indovinare una roba Aspetta forse Sonic Vediamo un po' Sonic Iscriviti se ne indovinate tutti